Benvenuti in Beltrani Camper & Caravan, vi vogliamo presentare questo splendido Challenger Genesis 46, anno 2010, disponibile in concessionaria. Fiat Ducato 2.3 Multijet 130 cavalli, 49.000 km circa. Semintegrale 6,79 metri di lunghezza, con garage e letto matrimoniale posteriore, uno dei semintegrali più venduti, più commerciali, ottimo rapporto qualità prezzo, più apprezzati dal pubblico. Semintegrale 4 posti omologati e con 4 posti letto, il veicolo casa costruttrice francese Challenger ha una scocca interamente in resina, un mobiglio chiaro che dà una bella luminosità, dinetta avanzata con sedili girevoli e grande seduta laterale, letto matrimoniale basculante, sovrastante la dinetta, che lascia la porta adentrata, la portacellula libera, bagno con box doccia integrato, ma con appunto possibilità di potersi fare una comoda doccia, box doccia stondato e letto matrimoniale trasversale posteriore, con sottostante garage, cucina laterale, con piano cottura a tre fuochi, armadio, frigo 150 litri con ghiacciaia separata. Il veicolo ha un portabici, un pannello solare per l'autonomia di corrente, piedini di stazionamento posteriori, porta moto in garage, antenna tv, riscaldamento a gasolio e berspecker, comodo per chi fa uso invernale del camper, per avere un'autonomia di riscaldamento sempre più presente, poiché il gasolio è più facile da reperire rispetto al gas. Vi aspettiamo in concessionaria.